Gratis, certo, ma con un impegno preciso da parte delle famiglie. Lo skip a gratuito del BIM torna, questa volta però, ad una condizione. Che non restino in giocenza le oltre 1100 tessere mai ritirate o mai usate lo scorso anno. Per ovviare a questo spreco, basta pensare che il solo badge ha un costo vivo di 5 euro. Tutti gli eventi diritto dovranno versare una quota di 20 euro. L'obiettivo del consorzio del bacino in mirifero rimane quello di avvicinare i bambini e i ragazzi, dai 3 ai 16 anni, agli sport sulla neve. Abbiamo introdotto un piccolo correttivo per l'emissione del PAS che non sarà più interamente gratuito, ma viene chiesto una compartecipazione di 20 euro a PAS, innanzitutto per corresponsabilizzare le famiglie affinché venga percepito un importante impegno da parte sia degli enti pubblici che su questa partita investono parecchi soldi, sia da parte del mondo degli impiantisti che comunque hanno riscontrato un disavanzo impegnativo. Dall'altra anche per in qualche modo andare a cercare di sanare quelli che sono stati gli abusi o quello che è stato un approccio superficiale a questa iniziativa. La perdita non è data da questa inutilizzazione, ma è data da quello che è stata una perdita del comparto impiantistico che si quantifica in parecchie centinaia di migliaia di euro, la quale però la riteniamo uno sforzo importante perché l'obiettivo è proprio quello di avvicinare il giovane alla montagna, di ridare valore anche all'interno del nostro territorio, allo sci, che viene molto apprezzato all'esterno, ma magari a volte è un po' poco dimenticato tra le nostre famiglie. 360 mila gli euro messi a disposizione dalle amministrazioni comunali e dalle comunità montane che anche quest'anno garantiranno ai ragazzi delle scuolaresche il trasporto gratuito sugli impianti. Per perfezionare la proposta sarebbe utile il coinvolgimento delle scuole sci, ha evidenziato il presidente della Sib, Valeriano Giacomelli, uno fra gli impiantisti al tavolo odierno. Per fornire alcune lezioni gratuite, l'auspicio è che l'iniziativa possa inoltre trasformarsi in una best practice anche a livello superiore. Il nostro obiettivo è quello di continuare perché l'augurio è quello che il prossimo anno si possa avere uno ski pass regionale per far sì che oltre i nostri valtellinieri e valchiavenaschi tornino a sciare sulle loro montagne ma anche i lombardi vengano a sciare in Lombardia.